E di tre denunciati il bilancio della rissa avvenuta nella serata di ieri in via Piantito, nel centro storico di Campagna. L'alterco è scoppiato per motivi ancora in corso di accertamento fra un cittadino rumeno residente a Battipaglia e due persone della zona. Sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri, che oltre a sedare la rissa hanno provveduto a sequestrare un bastone ed un coltello che erano in possesso dell'uomo di origini rumene. In un terreno vicino al luogo in cui è avvenuta la rissa, inoltre, è stato rinvenuto un altro coltello di grosse dimensioni. I tre sono stati denunciati per rissa aggravata, mentre lo straniero si è beccato anche una denuncia per porto di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.